ragazzi buongiorno e buona mercoledì 20 di luglio estate vi dico solo sta cosa è estate ragazze estate è il tempo suo ma col mio look of the day di oggi che vi fa vedere subito subito vi dico che si sta freschissime allora ve l'avevo già fatti vedere perché me li sono presi pure nella versione nera questi pantaloni fantastici e adesso anche nella versione amarena me li sono presi non potevo resistere ragazze sono comodi freschi pratici perché non prenderli pure colorati così li abbino con tutte le maglie scure con tutte le maglie a fantasia che ho sulle tonalità della marena e ne sono veramente soddisfatta mi piacciono li abbiamo messi in vetrina non credevo son sincera non credevo nemmeno che mi stessero così bene ma sono talmente comodi e la linea è perfetta che non poteva essere altrimenti ragazzi è la stessa colorazione che abbiamo messo anche in vetrina bella fresca pratica comodo pantalone vita medio alta ragazze sempre quello con l'elastico fantastico perché è alto alla fascia alta quindi rimane molto alto in vita volendo si può mettere anche leggermente più basso se siete alte e volete acquistare un pochino più in lunghezza che dire che veramente fantastico leggero perché è tutto un pizzo sanghallo vi ricordo che al pantaloncino che arriva praticamente quattro dita sopra il ginocchio ecco questo è il mio ginocchio e tutta la parte di sotto è tutta traforata cioè come portare un pantaloncino corto ma visibilmente un pantalone lungo ragazze ma che pantalone poi tutto con la lavorazione in sanghallo bello mi piace comodo fresco pratico soprattutto nella parte di sotto rimane perfetto perché morbido essendo un pantalone a palazzo ma la lunghezza pure ragazze come vi stavo dicendo basta tirare su leggermente di più e riuscite a scoprire piede non c'è nemmeno bisogno di fare l'orlo ci ho messo il sandalo da 12 euro e 99 quello che vi ho fatto vedere anche ieri ragazze sono talmente comode che non riesco più a toglierle quello con lo scettino in ecopelle che volendo potrebbe essere messo anche effetto schiava quello che ha i fiorellini quelli che soprattutto hanno una zeppa di 45 centimetri con un bel platone la parte davanti ragazze è comodissima fantastiche 12 euro e 99 di comodità e di freschezza e poi la blusa quale ci ho messo questa mattina ci ho messo la blusetta con la mezza manica che comunque mi rimane molto morbida fresca comoda pratica da mettere sopra questo è la blusetta in tessuto di crepe quella con la mezza manichina che mi copre con il collo a giro che rimane veramente ampio morbido e comodo quella che ha nella parte laterale bassa sinistra il fiocchettino e che quindi dà un effetto che si va a chiudere pur essendo molto morbida questa blusetta qui eccola qui ce l'abbiamo ancora disponibile ovviamente nella versione nera ce l'abbiamo nella versione bordeaux e nella versione bianca taglia unica ottima la vestibilità anche per chi ha il seno grande perché ragazze veramente cioè guardate io sto qua ci stanno 15 centimetri in più d'abbondanza quindi la vestibilità è veramente fantastica il tessuto non traspare e rimanendo così lenta praticamente avete soltanto una parte che si appoggia sulle spalle il resto non sentite nulla la freschezza allora bambole visto il mio look of the day di oggi che è veramente summertime e ideale per questa eccomi eccomi sono tornata ideale per questa giornata veramente con le temperature altissime vi dico che sto organizzando lo scarico di domani vi dico mi raccomando non so se ne avremo anche altri perché i magazzini sono veramente stamattina stavo al telefono tutta la mattina al telefono ho passato magazzini vuoti ragazze di tutto quello che vedete non so quanto riusciremo a riassortire quindi occhi aperti domani uno degli ultimi scarichi per quanto riguarda la collezione estiva vi aspetto correte se c'è qualcosa di quello che abbiamo a disposizione di quello che è da scontare del 20 per cento ma anche di quello che è da scontare dietro al 50 per cento che vi piace o vi incuriosisce passate mi raccomando che sta finendo tutto io vi aspetto a questo punto vi ricordo che saremo aperti presso il nostro punto vendita finale 13 30 con line sono sempre a vostra disposizione che a partire dalle 16 saremo di nuovo aperti mi raccomando sbrigatevi perché poi sulla pagina già trovate pubblicate questa mattina già fatto le foto con gli articoli che sono ancora disponibili mi raccomando anzi qualcosa sta pure finendo degli articoli che ho già pubblicato stamattina perché state passando di corsissima mi raccomando sbrigatevi l'estate ancora lunga rgn l'orz ci vediamo vi aspetto ciao